Ma guardate un po' cos'è arrivato un pacco, un pacco mi avete regalato qualcosa Allora ragazzi mi è arrivato questo pacco da parte vostra e lo apriamo insieme E' la prima volta che ricevo un dono da parte dei miei follower del canale di youtube Ragazzi io più o meno so che cosa dovrebbe essere, vediamo insomma se è quello che penso io Allora qui non c'è più niente, via con questo Qua c'è il secondo pacco, va bene, allora li apriamo, li apriamo al volo Ragazzi è una maglia, lo sapevamo insomma da un amico che mi aveva scritto una maglia Dagli amici di Sguaghi un nuovo servizio che adesso testeremo insieme Ed è arrivata una super polo ragazzi, ok? Allora grazie Claudio perché mi ha iscritto una mail con una serie di complimenti per il canale E poi ovviamente mi hai detto che mi spedivi questa polo La vedo, oh grande, gigante, no vabbè mi andrà, mi andrà Va bene, grazie Claudio Allora, bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video con unboxing Video di analisi tecnica, analisi ciclica su bitcoin E bellissima questa bitra, l'altro disegnata qui, dei cripto amici, va bene Allora ragazzi, oggi facciamo una super super analisi per quello che riguarda i mercati cripto E andiamo a guardare i dati relativamente all'analisi ciclica mischiata alla tecnica Perché i mercati stanno reagendo Oggi è una giornata di super bull sui mercati old E' vero che ragazzi, molti di voi mi hanno scritto i mercati old Stanno facendo i numeri, bla 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 Non è così ragazzi, attenzione a mischiare un po' il tutto Chi sta facendo i numeri è il Nasdaq 100 ragazzi Standard plus 500 è vero che ha guadagnato tanto Ma ragazzi è sotto i massimi del mese scorso Quindi non ha fatto nuovi massimi al momento Certo, il trend è rialzista, ci mancherebbe Però dire che stanno facendo i numeri mi sembra esagerato Stanno salendo come è successo anche ai mercati cripto a bitcoin Solo bitcoin è salito velocemente ragazzi, molto velocemente Ma se volete poi vi faccio vedere anche un grafico Sta guadagnando di più di standard plus 500 Ma Nasdaq invece è forte Questo è vero, verissimo Però non mischiamo un po' tutte le cose Non facciamo banalizzazioni Perché non è corretto nell'ambito trading Che poi ragazzi si vanno a sbagliare le posizioni Quindi i mercati hold stanno andando benissimo Certamente, ma non stanno facendo super faville Se non guardiamo i singoli indici In questo caso Nasdaq che invece fa massimi su massimi Standard plus ancora sta tentando di capire la strada da fare Allora ragazzi oggi però vi parlo di quello che è l'analisi ciclica di bitcoin Perché siamo a scadenza, lo avevamo detto Intorno al 10 di luglio c'è questa scadenza Che io ritengo fondamentale per quanto riguarda i mercati Sia hold che quelli ciclici Sembrerebbe infatti ragazzi che i mercati abbiano iniziato un po' a reagire Già oggi i mercati hold infatti fanno bei rialzi E' ancora indeciso, sono ancora un po' indeciso su alcune cose Ma da un punto di vista di analisi su bitcoin invece ed ethereum Ragazzi voglio far vedere anche ethereum oggi molto bella C'è da fare tante tante cose Ragazzi poi sto facendo una serie di progetti nuovi Per la mia academy Che sarà rivoluzionata praticamente in maniera totale Ho preparato in questi ultimi tre mesi Una serie di progetti che verranno implementati a brevissimo Ovviamente parlerò con i ragazzi dell'academy a breve Non lo sanno neanche loro ragazzi Quindi lo sto dicendo per la prima volta in questo video E poi vi farò sapere tutto quello che faremo Perché sarà, diventerà estremamente più operativa Molto trading e si aprirà a tutti i mercati Quindi non soltanto a quelli in crypto Allora andiamo dietro di me bitcoin Facciamo subito la ciclica Perché ragazzi ci sono dei livelli che dobbiamo monitorare E io sono ancora fiducioso Io lo so che i mercati si sono addormentati Ma attenzione, attenzione Perché io sono molto fiducioso nei prossimi mesi Allora andiamo a vedere il bitcoin qui dietro di me Ragazzi qui sul mio desk operativo Allora ragazzi quello che possiamo vedere già immediatamente Per quanto riguarda questa struttura di bitcoin E intanto vi faccio vedere subito la struttura ciclica Poi andiamo a vedere i due livelli che vi ho indicato per la settimana Che dobbiamo monitorare in maniera veramente estrema Oserei dire per capire quando e se una fase ciclica nuova potrebbe iniziare Ragazzi allora la fase ciclica di bitcoin è veramente complessa Da calcolarla nell'ambito di un trading range così insomma stretto Abbiamo visto una riduzione di volatilità nell'ambito del mercato cripto Veramente importante, imponente Per quanto riguarda il re delle criptovalute A cui non siamo abituati, devo essere sincero A questa riduzione di volatilità così ampia Però alcune caratteristiche dobbiamo metterle in evidenza sui mercati Perché ci sono e ci sono veramente da considerare Intanto qualcuno di voi me l'aveva fatto anche notare Il famoso, la famosa media mobile a 200 periodi Bitcoin è rimasto sopra la media mobile a 200 periodi Per un po' ragazzi E ancora è lontano dalla eventualmente diciamo bucarla Quindi attenzione questa cosa è importante Perché come vi ho spiegato già in un altro video Quando i mercati stanno molto tempo sulla media mobile a 200 periodi Diventa un segnale rialzista anche per gli istituzionali Quindi è ottimo segnale Anche vero che da parte di istituzionali Bitcoin si ha l'attenzione negli ultimi mesi Ma ragazzi non di tutti gli istituzionali Quindi una parte sicuramente Da un punto di vista invece di analisi ciclica Siamo in una fase di scadenza di un ciclo intanto superiore Perché sono passati circa 120 giorni dai minimi di marzo Ragazzi 120 giorni è una metà ciclica di un ciclo importante Per cui potrebbe in effetti dare spazio a movimenti più rilevanti Se andiamo poi a vedere i sottocicli Per farvi capire come eravamo Come ce l'avamo lasciati Ecco diciamo così Allora se andiamo a vedere i sottocicli La struttura del mercato ha fatto questo battito Questo tempo Che secondo me Possiamo considerarlo come un ternario ragazzi Qui vedete sul minimo Della 27 giugno Che poi ragazzi in teoria è quasi un doppio minimo Se lo consideriamo qua il 5 luglio Beh il mercato potrebbe già aver chiuso questa fase Una fase che adesso vi dipingo in questo modo 1, 2 e 3 E potrebbe in effetti rappresentare quella che è la chiusura Che stiamo attendendo da un punto di vista di ciclo di bitcoin Oppure potrebbe allungarsi vedete Fino insomma alla metà del mese di luglio I primi La decada di luglio ragazzi Quella era Questa settimana era il momento topico Per questa scadenza ciclica Però il mercato come ben sappiamo Le scadenze cicliche ragazzi Non indicano una presa di posizione operativa Sul trading Come vi ho spiegato Circa 400 video Sul canale youtube Bensì danno un'idea importante Su quella che è la possibile fase Che sta arrivando Ed è qui che dobbiamo arrivare Perché ragazzi? Perché il superamento di questa trend line Che vi ho disegnato E di questi livelli Di prezzo Quindi 9500 in prima fase 9800 in seconda fase Poi c'è la super resistenza Ovviamente a 10000 a 511000 Ma il superamento di queste fasce di prezzo Vedete un break di questo livello Più un superamento congiunto Magari del primo livello di resistenza Ragazzi indicherebbe una nuova fase ciclica Che potrebbe essere in questo caso Abbastanza importante In termini di rialzo Perché è appunto un ciclo imminente Che dovrebbe essere anche un ciclo importante E questo ci dà una idea Anche dal punto di vista di trading Di come utilizzare questo momento Perché un momento del genere Potrebbe darci la pista Per una fase rialzista Per almeno magari due settimane E potrebbe fare rialzi Perché no? Anche a doppia cifra Perché siamo in una fase ciclica Che dovrebbe spingere Da un punto di vista rialzista Ragazzi poi Come sempre Quello che fa Fede Sono i prezzi Trend is your friend Quindi non dovete mai andare contro trend Se il mercato non ci dà indicazione Al di là di tutte le tipologie di analisi Fondamentale, ciclica E quel che sia Quello che comanda È sempre il prezzo ragazzi Quindi dovete essere dei trader E capire quando entrare su questi mercati Però un break di questi livelli Potrebbe dare uno spazio rialzista Che perché no ragazzi Va considerato Ed è notevole Ancora di più un break dei 9.800 Potrebbe indicare esattamente Questo tipo di movimento Quindi l'inizio di uno nuovo ciclo Importante come quello che stiamo attendendo Da un punto di vista invece Di tempi a ribasso Ancora c'è possibilità Di fare nuovi minimi Perché in realtà Il mercato Tecnicamente ragazzi Dovrebbe andare A fare un minimo Al di sotto Di 9.000 E di 8.600 Però nulla vieta A bitcoin Di tranciare Questo movimento ribassista Con questa flemma Che ha dimostrato E magari Semplicemente Si è riposato In questi giorni Allungando un po' I tempi Facendo una volatilità Che si chiama Contrazione di volatilità E da qui in poi Inizia il suo trend Con calma Certo è che Non possiamo escluderla Questa posizione Anche il motivo Per il quale Entrare in posizione A mercato Long In questo momento Senza strategia Di stop loss Protezione È assurdo Ragazzi Quindi non dovete fare Cose di questo tipo Per fare trading Sui mercati In questo caso Un trading Di breve periodo Dovete Avere un minimo Di formazione E comprendere Questa cosa Che vi sto dicendo Anche perché Come vedete La trend line Ci indica Comunque Questi trend Trend che sono Sempre stati Rispettati Nell'ultimo mese Da bitcoin Quindi Tecnicamente La figura Corretta Sarebbe Questa Qui Ragazzi Poi sappiamo Che non sempre I mercati Dipingono Alla perfezione Annalisi Tecnica Perciò Valutiamo Entrambe Le situazioni Se dovesse Eserci un break Al rialzo Io andrò Long Così come Anche i miei Sistemi Che non hanno Performato bene Nel mese di giugno Ma vi farò Vedere Con un video Tutti gli investimenti Che ho fatto E vi faccio Vedere Quali hanno Performato bene E quali no Invece Quello Su bitcoin Non ha performato bene Perché è in una fase Di drawdown Si dice così Bene ragazzi Allora Questo è quello Che mi attendo Su bitcoin Nei prossimi giorni Sono in fase di attesa Ma spero Una partenza Di un ciclo superiore Importante A brevissimo Andiamo a vedere Ethereum Invece Perché anche lì Abbiamo Una Importantissima Fase ciclica Che volevo farvi Vedere Anche su Ethereum Allora Ho diviso Un ciclo Su Ethereum In maniera diversa E l'ho fatto In maniera Più lunga Quindi allungando i tempi Non dividendo i sottocicli Quindi qui abbiamo Un 60 giorni Più un 60 giorni Ragazzi Sembrerebbe questo Il tempo Che sta Battendo Questo mercato Quello che volevo Farvi vedere Era questa struttura Vedete Ternaria Qui Che Ancora una volta Ragazzi Oh È chiusa Qui E quindi In questo modo Questa fase Rialzista Sarà la prima Di questo nuovo ciclo Di cui vi sto parlando Oppure Ragazzi È questa La struttura Che sta facendo Qui c'è stato Questo rialzo Questo break Poi Praticamente È durato solo un giorno Che è stato riassorbito Che Difficilmente Ci fa capire la situazione Perché Perché in barra di congestione Anche Ethereum Ragazzi Quindi non abbiamo Possibilità Di avere Le idee chiarissime Però Questo minimo Ancora una volta Potrebbe essere Il minimo Di chiusura del ciclo Oppure dovremmo aspettare Qualche altro giorno Fermo restando Che non cambia niente Da un punto di vista Di trading operativo Perché Perché È Chiuso In questa barra Di congestione La vedete Tra La mia resistenza Di breve Che vi indico Ormai Da più di due mesi 250 per Ethereum E i supporti Di breve Che erano A 225 E il super supportone A 218 Vedete Come ha tenuto Questo super supporto Su Ethereum Ha tenuto Tutti i minimi 1 E 2 E la struttura A 225 Ha tenuto Quasi Tutti Tutte le chiusure Tranne quelle Degli ultimi giorni Quindi Soltanto negli ultimi giorni Ha chiuso sotto All'interno Di questa fascia Ma la sta recuperando Già vedete Nella giornata di oggi Ethereum Molto bello Anche questo Perché è molto bello Il mercato Delle criptovalute In toto Infatti Mi concentrerò Anche su questo Nelle In settimana Credo ragazzi Anche sulle top Criptovalute Perché ci sono state Le altcoin Che hanno fatto I numeri Sono splendide Tra cui la mia CRO Di cui vi ho parlato Più di un mese fa Ragazzi Sono oltre 65% Di profitto Con quel investimento Ne parliamo Nei prossimi video Ragazzi Quindi iscrivetevi Al canale Se ancora Non l'avete fatto Per l'operatività Su Ethereum Ancora una volta Ragazzi Il livello di resistenza Da battere È 2,50 Se però Volete Essere dei trader Un po' più veloci Ma dovete essere Tra virgolette Sgamati Dovete sapere Quello che state facendo Ragazzi Se non avete formazione Queste operazioni Non potete farle Aspettate a quel punto Il break dei 2,50 Vedete dov'è la trend line Come leggermente più piatta Rispetto a quella di bitcoin Vi faccio vedere la differenza Vedete bitcoin È più ripida Perché è sceso un po' di più Ethereum Un po' più piatta Ma resta tutto confermato Cioè senza salire al di sopra Di questo livello Restiamo dove siamo In barra di congestione Bene ragazzi Allora per oggi è tutto Vi ho fatto capire Quello che può succedere È una fase concitata Attenzione ai livelli di prezzo I bitcoin 9500 9800 Non stuzzicate il can che dorme Ragazzi Perché non È vero che siamo In una fase estrema Di riposo del mercato Ma attenzione Perché proprio in queste fasi estreme I pump E i dump Purtroppo Potrebbero essere Veramente Veramente Facili Dal verificarsi In settimana Altri video Ci sono tante analisi Da fare Ci sono i mercati Old Che stanno Performando Dovremmo considerarli Io a dirgli la verità Ragazzi C'è una posizione short Ve lo dico Dai massimi Di questa mattina Ma la chiudo In giornata Quindi oggi Oggi proprio Ve lo ho detto La posizione short Su DAX Una posizione short Su S&P 500 Ma ragazzi Sono già in gain Quindi ho già i trailing Stop posizionati E la chiuderò A brevissimo Va bene Sì Oggi siamo stati più colloquiali Ci vediamo nel prossimo video Come sempre Lasciatemi il pollicione E fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Di questa analisi Ciao a tutti Ciao a tutti